L'autista alla guida del bus precipitato dal cavalcavia di Mestre non avrebbe avuto nessun malore. Sarebbe questo l'esito della perizia effettuata a seguito delle indagini e l'uomo non avrebbe avuto nessun problema cardiaco. L'incidente risale al 3 ottobre scorso, una tragedia immensa nella quale hanno perso la vita 21 persone dopo una gita a Venezia stavano rientrando in hotel. Giorni colmi di dolore che hanno distrutto numerose famiglie. Intanto sul fronte dell'inchiesta le indagini stanno proseguendo.